buongiorno signorotti di around e vediamo qua il cesi in azione aspetta che sono tutto in controluce ma cosa stai facendo cesi? il sottaceto il sottaceto ma non hai mai fatto in vita tua? no perchè mi fa letteralmente caro no dai ma i cetrellini in c- no no uia aia in diretta così sto sanguinando tanto fa vedere look at this look at this non posso aaa il cesi ma quindi come si fa il sottaceto anche perchè magari lo vogliono ricreare a casa ma la smetti ma ce la puoi fare ma la smetti cosa sta facendo frank qua al computer? music no copyright quella ehi bella nelson cosa stai facendo nelson? sto ultimando il video con merluzzo che deve uscire ma era molto interessante che prima hai detto quanti tagli hai fatto su questo video in questo video ci sono spara un numero frank prova a indovinare tre e basta frank è un po' alta frank abbassa un attimo ci sono 2618 elementi che non sono però per forza tagli io ho premuto il tasso del taglio secondo me circa 2000 volte che noia forse 1800 anche il problema di questo video è che è lungo quindi se tu prendi un video di 10 minuti mettiti ci devi lavorare il doppio solo perchè dura 20 no cioè ma io guarda che un po' ti capisco perchè quando monti il backstage più o meno faccio quel numero di tagli si 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 ma più o meno no più o meno faccio quel numero di tagli e ti capisco ma anche te immagino sei un bel qua la mano per i veri montatori grande nelson vai frank è una navaliena bellissima vediamo qua il cesi che è riuscito a non tagliarsi una mano ma che poi aspetta non l'abbiamo detto perchè non c'è Dario a fare questa cosa perchè Dario aveva un impegno eeeh boh eh no si cioè se tu sei arrivato qua stamattina non c'era Dario non ti sei chiesto il perchè no perchè di solito queste cose qua le fa lui ah ok non posso fare aspetta no 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 lo puoi fare l'importante è che non ti tagliarsi però dico hai una responsabilità non tagliarti la mano è tornato Dario Dario ma eri da stamattina lì in bagno ma scusa mentre noi eravamo lì a preparare era in bagno guarda che si dorme benissimo con la testa dentro la sedia si dorme bene? ah io se non so se tu non l'hai mai provato io li consiglio no perchè io avevo detto che tu avevi un impegno chissà la gente che viaggisse fatta in realtà Dario era in bagno da stamattina mi sto scherzando aspetta accedere qui faccio vedere e non lì guarda guarda inquadra lì sotto ah lì c'è una chiazza nera ah ok vedo lì qua questa vedi quella appoggiato lì con il testino lo vedi? il cuscino quello ah 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 carino carino bella è confortevole vuoi vedere come ho dormito? si si sarei molto curioso così guarda altro che strut ah 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 no Dario Dario da Dario da Dario da Dario da Dario ho dormito così sono contento per te sei riposato? bah ahhhh ed è tornata la sua postazione e c'è e ci siamo questa è casa mia ti mancava un po' questa situazione ma si che mancava? Tu ti sei svegliato stamattina e pensavi solo a questo Ma certo, io ho fatto colazione con fette di pane con sopra spalmata la cucina di Space Valley Abbiamo risposto a degli annunci Ma perché ci dà la musica giapponese sotto? Ma io potrò... Il termine, hai candidature per montare Ok Quindi adesso invece sto rispondendo a quelli a cui non abbiamo risposto perché fanno un po' schifo Perché non siamo convinti Puoi dirlo apertamente, perché non siamo convinti, che è molto moderato Questo qua dice, sono povero come la m***a Se vi serve qualcuno che gestisca il vostro giardino chiamatemi pure Eseguo lavori di giardinaggio e tutto fare E la cosa bella è che noi qua a Space Valley non abbiamo un giardino Ce l'abbiamo e però non possiamo farlo vedere Aspetta, aggiornamento, aggiornamento sul nostro acero giapponese Oggi mi sono accorto che quello che sembrava marcio è perché si sta trasformando Diventa rosso No, 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 diventa rosso Ma perché è morto? No, guarda, sta diventando rosso Ah, è vero Vedi che è tutto rosso Sta crescendo Eh, ma no, secondo me è vero No, no, no No, se diventa tutto rosso così, veramente l'abbiamo svoltata Vedi che ha tutti i bordini rossi Sta da Dio Dopiamolo, per favore Ma cosa, ma non puoi do parlo, ma non possiamo do parlo No Io sono molto soddisfatto, Frank Secondo me No, la devi fare così Smettila Io niente, tu 4 euro Esatto, l'abbiamo pagato 4 euro Questo altro è già pagato Questo è come backstage, eh? Questo sotto aceti Non ho capito Non ho capito L'abbiamo perso Va bene, continuo pure Continuo pure Come diceva Cesare Tipo a queste trai qua Potremmo appendere dei vasi Con le foglie che scavano No, che figo Hai ragione È veramente una tua idea, Cesi? Sì È una figata No, veramente Sono sincero Appendere le piantine Appendere le piantine su quelle travette lì Sarà be' fighissimo Ma che cos'è? Che cos'è? È il pisello di Nicolas Eh, vabbè Non era quello Ah, no, ok Le ciambelline Stanno assorbendo tutto l'aceto E stanno diventando giganti Come anche Oddio Anche i plum cake Bellissimo Secondo Ma che backstage stai girando in questo momento? Questo è sotto aceti E perché io sto preparando le creme per il viso? Come stai preparando le creme per il viso? Allora hai sbagliato backstage, scusa Sei nel backstage e c'è sbagliato Torna nel backstage giusto Non ho capito Frank ha appena scoperto una mail inusuale La leggo Leggi pure Salve Io mi chiamo Sono egiziano Non so montare i video Però mi piacerebbe fare amicizia con voi E lo so perché non gli abbiamo risposto Perché non gli abbiamo risposto, scusa? Io non amici Come fai Hai ragione Dario cosa stai osservando? Dario Tutto bene? Sei vestito diverso Eh, sono vestito diverso perché è passato un giorno Ma perché sono vestito diverso? No, scusa, tu non sei vestito uguale? No, no, no No, sei vestito diverso Sì, sono vestito È passato un giorno Però scusa Dimmi Che questi sono Questi sono quelli di ieri Però adesso è oggi Adesso è oggi, sì Però scusa Le persone a casa che stanno guardando Lo vedranno come il giorno dopo Eh no, però è lo stesso video Certo, è lo stesso video Sì, sì Praticamente noi ieri eravamo in studio Vestiti diversi Abbiamo fatto questo Esatto Durante creme per il viso Questo è lo stesso video Però è un giorno diverso Però è un giorno diverso Sì Cosa è possibile? Cosa succede? C'è una zanzara Come c'è una zanzara? C'è la prima zanzara dell'anno C'è la prima zanzara dell'anno Oggi Impossibile, scusa Scusa, andiamo a vedere Perché è anche così È impossibile Che lo giuro, mi è arrivato qua Però non c'è Attenzione C'era C'era nel futuro L'hai vista? No, non l'ho vista Però ci dovrebbe essere C'era nel vostro futuro C'era nel vostro futuro Ragazzi, non c'è C'è stata però Per loro c'è stata C'è stata Esatto, c'è stata Loro l'ho vista Ma ti appunto? Loro possono Secondo me sì Ma perché ti stai toccando Fa vedere se ti appunto No, non ti ha beccato No, ma infatti Questo è falso Anche questo è falso No, non è che è falso C'è stata veramente Questo è impossibile In punto primo Questo non può essere lo stesso backstage di ieri Uguali, identico, lo stesso Siamo tutti vestiti diversamente Non puoi Tone è uguale No, io sono Ma scusa Tu sei sempre vestito uguale Ma non sono sempre vestito uguale Io mi sono cambiato Questo è un colore differente Ma tu a me che hai questo magliancino blu No, anche Tone è vestito diversamente Sperate una volta C'è la prima volta È la prova È la prova che questo Non può essere il backstage di Sottaceti Nick Chi ha deciso Che il backstage Deve essere svolto Non si chiama Daystage Si chiama backstage No, no, no Stesso backstage In due giorni Non può essere vero Ti spiace Sei vestito diverso Non può essere lo stesso video Today backstage Ma è bello Today backstage Non sei convinto ora? Non ho capito Come non hai capito? Non torna perché scusa Anche le persone che stanno guardando Avranno dei dubbi Scusa Cioè ti vedono prima Che sei vestito in un moto In una parte del video Poi cambi improvvisamente Ma non è vero Tone è sempre vestito uguale Ma la smettete Oh Io sappiate Che mi sto dissociando Da questo comportamento È una presa in giro Nei vostri confronti Ma come? Vi stanno facendo credere Che questo è lo stesso backstage Di ieri Quando non può essere vero Quindi per concludere? Per concludere Non ho capito Cos'è questo? Ah quello è bellissimo È un barattolino Che abbiamo preso al supermercato Ma cos'è? Di una cosa che non sappiamo Aspetta che lo faccio vedere Nelso Aspetta Nelson Guarda qua Abbiamo preso solo Per assaggiarlo nel backstage Dimmi se non è bello Maschai Foglie di cavolo bianco E salamoria Però guarda quanto sono impressionanti Sono veramente brutte L'immagine è il solo scopo Di illustrare il prodotto E sembrano dei cani morti È solo cavolo Sì È solo cavolo Dopo lo testiamo Deve essere terribile Sono dei peni E vabbè Allora abbiamo appena finito La puntata sotto aceti E ci è arrivato un pacco Con dentro questi Che sono i barattoli Che ci servivano Per questa puntata Che abbiamo già fatto E praticamente avevamo annullato l'ordine Però vedi Ma non li abbiamo pagati No aspetta Questa è la prova Del fatto Ok Che è un altro video Che è un altro È vero Siamo all'interno A questo punto Sono convinto anch'io Siamo all'interno Di un altro backstage Palesemente Un altro backstage Ma sono già in fronte Dario Ah Ma scusami In che video siamo in qua Siamo in altro backstage No questo qua Questo che è backstage È questo È un altro backstage Ce l'hai scritto in fronte Tonno Il salsiccio Tieni Cos'è No l'hai presa L'ho presa Non ci credo E questa qua ragazzi È quella che appunto Ne alzano sul collo Sì Ma andate a farlo vedere Ma sei rossissimo te tra l'altro Eh ma dilaniato Terribile Voi non ci credevate Invece lei c'era davvero Allora Io non ho la minima idea Di che backstage Sia questo Però pare che Proprio io E Tonno Andando a fare la spesa Per comprare gli alimenti Da mettere sotto aceto Ci siamo imbattuti In questo barattolo qui Io questi qua li ho Soprannominati Fagottini morti Nel senso che Tutte le volte che li vedevo Non capivo cosa fossero Non avevo capito Che fossero Semplicemente Delle foglie di cavolo E pensavo fossero I fagottini Di un qualche animale morto Per poi scoprire Per fortuna Che sono delle semplici Foglie di cavolo E abbiamo scoperto Prima che sono Di origine turca Qualcuno che vuole assaggiare Di cima a me I fagottini morti No Vieni che c'è lo sbusto Dai Tu fai Fai l'odorata Iniziale Tonno Che backstage È quello che sto filmando È quello di sotto aceto Ah ok grazie Perfetto Ok non si apre Perfetto Fagottini morti È diventato Tagliato Non si sta aprendo Ma stai scherzando Posso ucciderlo Llammi a me Llammi a me Vai 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 Ma è impossibile Aspetta aspetta Che ce la sta facendo No regà È bloccato Sono i turchi I turchi hanno bloccato Il barattolino di fagottini morti Ma voi non sapete il trucco Ma vedete il trucco di Nick È una colchezza Ok Spaccarla Ma sei sicuro? Sì sì Piano piano Non sforzi Sicuro? Sì sì La forchetta dopo la butti Com'è la forchetta dopo la butti? La stai ammaccando? A questo punto Dai Nick ce la puoi fare Andiamo Ce l'hai fatto Grande Nick Pazzesco Pazzesco Tu lo conoscevi questo metodo Pazzesco Ho una chiamata Pronto? Pronto Pronto mi senti Ma perché? Ma perché vi state chiamando? Ma che problemi avete? Dal l'orologio Ma perché parli dal l'orologio? Ma perché vi dovete chiamare in ufficio? Sì però mi hai parlato in cinque e non capisco Pronto? Vabbè noi dobbiamo assaggiare i fagottini morti Aspetta Strani Ma fa sentire l'odore? L'odore è molto Regà l'odore è buonissimo Vai Tiralo fuori Tiralo fuori Ma sai che è complesso perché Come pensano che dovrebbe Ragazzi Per uscire Non si esce Non si esce Non si esce Non si esce Ma perché abbiamo questi fagottini? Nick non si esce Oddio Bello Ma uno dovrebbe mangiarsene uno singolo Sembra il pelle ragazzi È una pergamena Allora È una pergamena Prego amici Arriviamo col coltello Ecco Ma è una foglia di cavolo È una semplicissima foglia di cavolo Però dall'aspetto orrendo Io non capisco Chi possa comprare Con questo aspetto qua Ma dai Ma scusa Ma abbiamo creato hype Però è una cosa che non è nulla Lo so Assaggiamo? Assaggiamo? Già siamo in un backstage sbagliato Stiamo facendo un video Che non è un video Io assaggerei Non si taglia È molto rumore Benvenuti in questo nuovo backstage Siamo qui oggi In compagnia di Tonno Che sta per assaggiare Un arachide gigante Fa crocca eh L'espressione del disgusto Allora Non è che Non è Una cosa che mi fa Vomitare Però Non ha senso Perché È tutto accetto È completamente tutto accetto Quindi è trostissimo E poi È un vero gommolo Kraut un par di palle Non ci assomigliano Minimamente Se non l'odore Ciao Cesar Benvenuto in questo nuovo backstage Che backstage è? Questo è il backstage Di Può essere una puzzola Salva Danaio No No L'odore è buono Benvenuto in questo nuovo backstage Grazie Ma sai cosa sembra Una cuffia da piscina? Guardate È proprio una fogliona Ora scoprirai che non ha senso È peggio della roba Che abbiamo preparato noi Che senso ha? È gommoso È pieno di aceto Non sa di scorrezza Sì Non sa Non ha senso Vabbè Questa è la recensione Dei fagottini morti Ma dai Un gigantesco Callo staccato Una vescica La recensione Dei fagottini morti È fallita E direi che ci vediamo Allo prossimo round Al prossimo backstage Non voglio dire backstage Perché ti triggerava un po' Stai lavorando Ci siamo È il backstage di crema viso Questo Quella per la pelle È fatta Perfetto Ci vediamo Allo prossimo backstage Non ho capito